Terzo millennio, il millennio delle guerre per procura e dell'ipocrisia della cosiddetta comunità internazionale. Da una presunta transizione democratica siamo piombati nel bel mezzo di una catastrofe. Il modello Yemen è ormai un lontano ricordo. Anzi, si avvia ad essere una nuova Siria, l'ennesimo tassello del mosaico della violenza in Medio Oriente. E anche noi abbiamo le nostre responsabilità. Perché nel grande gioco del Medio Oriente e di questa regione continua lo scontro tra Iran e Arabia Saudita e alleati per la supremazia nella scacchiera regionale. Avviene a Sana'a, ma avviene anche a Beirut, a Baghdad e a Damasco. Le grandi potenze continuano a scommettere su entrambi gli schieramenti, spostandosi con una certa disinvoltura secondo le circostanze. E nel frattempo le popolazioni locali coinvolte sono soltanto pedine, sconfitte, sacrificate e dimenticate senza che nessuno abbia il coraggio di riconoscere che alla base si tratta meramente di un'instabilità voluta e finalizzata a riscrivere rapporti di forza. Forse qualcuno nel Golfo sarà tentato di liquidarla dividendo lo Yemen in Yemen del Nord e Yemen del Sud. Ma certo con questo si troverà la soluzione adeguata. E nel frattempo, nel nostro silenzio, i contendenti vengono armati pesantemente in attesa dello scontro risolutivo. Non dobbiamo scegliere quale fazione ci vada più a genio, ma difendere l'unica sanzione, l'unica vittima, la popolazione civile. Non basta aiutare i profughi, bisogna anche estirpare questa malattia, questo gioco perverso delle guerre per procura. Ed ecco perché nel conflitto uti-salafiti, ovvero il grande gioco tra Teheran e Riad, dobbiamo intervenire e essere durissimi contro chi finanzia e arma le due fazioni, chiunque sia. E ripeto, chiunque sia. Perché finché tolleriamo guerre settarie per interesse, siamo noi stessi anche adepti del settarismo.